Un colpo forte che lo ha fatto sbalzare sull'asfalto in via Pioga a Campo d'Arsego. Sono circa le 15 quando un ragazzino di 12 anni appena sceso dal bus che lo stava portando a casa viene colpito da un'auto mentre sta attraversando la strada. Lo studente cade a terra battendo la testa con violenza. Immediati soccorsi allertati dall'autista del bus e dell'Audi A6 che lo ha investito. Sul posto è aterrato in pochi minuti l'alli soccorso del suo M118 che ha trasferito il minore nel reparto di pediatria di Padova. Il dodicenne ha perso molto sangue, ha subito un trauma cranico, la prognosi dunque è riservata. Il conducente dell'auto che lo ha investito è un 58enne padovano, risultato negativo all'alcol test. La polizia locale del campo a San Pierese ha eseguito i rilievi e in queste ore sta ascoltando i numerosi testimoni per ricostruire quanto è accaduto nell'incidente. Non è chiaro il punto preciso in cui il dodicenne, che abita proprio davanti al punto in cui l'autobus si è fermato, abbia attraversato la strada. L'autista dell'auto che lo ha investito infatti proveniva dal senso di marcia a posto e può darsi che non lo abbia notato. Forse il dodicenne ha attraversato dietro il bus, ma questi sono dettagli che solo i testimoni oculari potranno fornire alla polizia locale. Sotto shock il conducente dell'auto.